Di covid si continua a morire. Oggi abbiamo una situazione piuttosto tranquilla, ma dobbiamo sapere che il problema non è risolto. Dobbiamo avere comportamenti irresponsabili, portare la mascherina è un piccolo sacrificio, ma ormai abbiamo aperto l'Italia e dalle regioni possono arrivare persone dove sono attivi ancora focolai, anche da altri paesi del mondo, a volte asintomatici, che non hanno sintomi ed è difficile individuarli. Serve un atteggiamento di prudenza. Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, serve prudenza e soprattutto i giovani devono sapere che di coronavirus si muore, ha detto De Luca, e che non è pensabile, soprattutto nei luoghi del divertimento, che non si rispettino le distanze e che si possa bere dallo stesso bicchiere. Si divertano pure, ha detto il governatore, ma tutelino la salute propria e quella dei genitori e dei nonni. Io credo che lo Stato italiano debba essere più consapevole di quanto non sia stato nelle ultime settimane, diciamo nell'ultimo mese, dei pericoli che si moltiplicano quando apriamo l'Italia a tutti gli altri paesi del mondo. Manca all'elenco dei paesi dai quali deve essere vietato l'ingresso, mancano gli Stati Uniti d'America, mancano altri paesi dell'America Latina, dove abbiamo un livello di contagio che è ancora pericolosissimo. A noi è capitato di avere un contagiato che era venuto direttamente con l'aereo da New York a Fiumicino. Fiumicino ha preso il treno nell'alta velocità, poi un pullman per arrivare nel comune di residenza. Abbiamo dovuto ricostruire tutta la catena di contagio, individuare come al solito la cabina ferroviaria dell'alta velocità, avvertire le ferrovie, contattare i viaggiatori, contattare i viaggiatori del pullman e così via. Diventa un calvario. Allora dobbiamo essere estremamente attenti. Dobbiamo sapere che un contagio che arriva dall'esterno rischia di determinare decine di altri contagi. Intanto cerchiamo di evitare i contagi nostri, al di là di quelli che possono venire dall'esterno. Il governo frattanto potrebbe anticipare la proroga al 31 luglio, ci potrebbe essere uno stop anche per le discoteche. Dobbiamo essere reali. Lei più volte fa appello ad usare la mascherina, ma nei luoghi di aggregazione i giovani si realizzano spesso di sera assembramenti. I giovani devono sapere che si muore di coronavirus. Noi questo dato lo stiamo sottovalutando, pensiamo che sia una stupidaggine. Cominciamo ad avere non solo contagi nella fascia giovanile, dai 15 anni in su, ma cominciamo ad avere problemi sanitari, gravi, non piccole questioni sanitarie, ma gente che va in terapia intensiva. Mi dicono che ci sono alcune fasce giovanili che ormai continuano, come nelle vecchie abitudini della Movida, a scambiarsi perfino i bicchieri quando si beve la birra o si beve un alcolico. Questi sono comportamenti idioti, oltre che masochistici. si muore di coronavirus. Quindi dobbiamo fare attenzione, evitare di perdere la testa, dobbiamo divertirci. I giovani devono andare incontro anche a questa estate con grande serenità, con grande allegria, incontrandosi, divertendosi, ma tutelando la propria salute, cioè la propria vita. Questo lo dico anche e soprattutto a chi ha magari in famiglia una persona anziana, a un nonno, una nonna e a chi ha bambini. Quindi davvero è il tempo di essere estremamente prudenti, responsabili e se sarà così vedrete che usceremo fuori da questa stagione davvero drammatica per il nostro Paese. Allora, quando c'è un positivo l'ASL prende in carico il positivo, comincia a fare la ricostruzione dei contatti, sui luoghi di lavoro, sulla famiglia e quindi il problema viene assolutamente contenuto, governato senza particolari problemi. L'importante, lo ripeto per la centesima volta, è portare la mascherina. Se portiamo la mascherina quando andiamo in una farmacia, in un supermercato o quando, come sul Carmine, proprio di fronte al distributore di benzina, stiamo seduti sulla lunga panchina che ho fatto realizzare 15 anni fa. Quindi si sta bene, tranquilli con tutti gli anziani, però si sta seduti uno a fianco all'altro, in quel caso bisogna indossare la mascherina, perché quelle sono le situazioni di pericolo. Quando si parla in maniera ravvicinata a 50 centimetri di distanza e possono arrivare le goccioline di saliva anche in bocca al tuo interlocutore. Allora, nessun allarme particolare, la situazione è assolutamente sotto controllo, a Salerno, in provincia, in Campania, in Campania, cioè sui quasi 6 milioni di abitanti. Anche ieri non abbiamo avuto quasi nessun contagio. Dunque, se stiamo attenti, non c'è nessun problema e andiamo avanti con grande tranquillità.